Questa è la mia collezione di clessidre e alcune sono veramente strane. Questa è una clessidra normale da 15 minuti dove scorre la sabbia colorata gialla al suo interno, mentre questa è sempre una clessidra che fa scorrere della sabbia, ma in realtà non è sabbia normale ma sono dei pezzettini di ferro che se collegati al magnete che sta alla sua base, iniziano a formare questo particolare movimento che è bellissimo da vedere, strasoddisfacente. Questa è una clessidra con un liquido al suo interno e delle palline gommose che scorrono verso il basso e si zoomano all'interno di questo cerchio. Mentre questa è una clessidra che va al contrario, infatti la sabbia non cade verso il basso ma sale verso l'alto. E ovviamente quando sono passati 5 minuti tutti i pallini sono arrivati in alto. Condividi il video e dimmi qual è stata la tua clessidra preferita.